Ciao, siamo nell'ecovillaggio di Govardhan di Radhanath Swami a Mumbai e siamo seduti al Samadhi di Rupa Goswami e Sanatan Goswami. Il Samadhi vuol dire che è lo stadio finale della vita in cui uno raggiunge la liberazione, l'illuminazione e infatti non si dice la morte di questo personaggio ma si dice il Samadhi, poiché questa persona è come se fosse eternamente in uno stato di libertà, quindi non è morta. Rupa Goswami e Sanatan Goswami sono due grandi saggi che vissero nel 1500 in India ed erano dei grandissimi eruditi e avevano una conoscenza così profonda delle lingue, di tutto quello che loro studiavano ed erano dei bramini, quindi dei devoti di Krishna. Soltanto che in quel periodo c'era l'invasione dei musulmani e avevano preso i due fratelli sotto la loro guida, diciamo, perché volevano che la conoscenza di questi due fratelli fosse messa al servizio dello Stato. E così fu. Era in realtà un ricatto piuttosto brutto perché era o voi fate questo o uccidiamo tutti i devoti che ci sono. Quindi come servizio hanno messo da parte i loro valori, la loro moralità, il fatto che loro avevano uno stile di vita completamente diverso da quello in cui erano obbligati ora. Loro erano personaggi semplici, gli piaceva stare sotto gli alberi, dormire fuori, invece qua erano obbligati a stare nei palazzi vestiti in maniera regale. Quindi qui già l'insegnamento che cogliamo è che non dobbiamo mai essere attaccati alla nostra, a quello che il divino ci dona. Se siamo fatti per dormire sotto un albero nell'ordine della rinuncia, dobbiamo farlo. Se invece siamo fatti per vivere in un castello, avere soldi, lo facciamo. Qualunque cosa facciamo, se lo facciamo con il sentimento giusto, con un senso di servizio, allora lo stiamo facendo bene. E cosa succede? Che questi due fratelli, nonostante servissero questo dittatore musulmano, avevano creato all'interno del loro luogo tutto ciò che richiamava la loro spiritualità. Avevano quindi stabilito Vrindavana, questo luogo sacro in cui era apparso Krishna. E questo anche ci insegna che anche quando noi andiamo a lavorare e non ci piace quello che facciamo, ma lo dobbiamo fare comunque, possiamo comunque creare nel nostro intimo, nel nostro cuore, a casa nostra, ciò che appartiene al nostro vero io. E fare quello che dobbiamo fare come dovere e poi rientrare in casa e ritrovare la nostra vera essenza e meditare su quello. E la storia continua che a un certo punto c'è Itania, che è un'incarnazione di Krishna stesso, arriva da quelle parti e loro vogliono scappare perché dicono basta, ora non ci si può più, vogliamo andare e servire lui e basta. E così riescono a fuggire, la storia è molto lunga, ma riescono a fuggire e a dedicarsi completamente alla missione di Itania. Itania è questa figura bellissima ed è una combinazione tra Radha, la dea dell'amore, e Krishna, in combinazione perfetta. Quindi il principio del divino nella forma maschile e femminile allo stesso tempo. E poi lo osservono, scrivono tante letterature, riscoprono i vari luoghi sacri che erano stati seppolti dal tempo. E così riportano a galla tutta la spiritualità della coscienza di Krishna, del Bhakti Yoga, che era stata ricoperta dalla polvere della dimenticanza. E quindi sono molto felice di essere qui. Si dice che quando noi andiamo in un luogo sacro e siamo in quel luogo, quello che rispecchia, quel luogo entra dentro di noi, tirandoci fuori quelle bellissime qualità interiori. E quindi è molto importante per trovare il sacro nel nostro cuore, vederlo anche fuori. E quando lo vediamo fuori, cercare di meditare, di portare quel sacro che è fuori dentro di noi. E questo può avvenire in un qualunque momento, anche a casa, al lavoro. Si tratta soltanto di cambiare il nostro stato di coscienza per imparare a portare il sacro dentro di noi. E quando ce l'abbiamo dentro, ovunque andiamo, qualunque cosa facciamo, chiunque siamo, il sacro si manifesta. E quindi viviamo la vita spirituale in ogni istante. E questo porta una grande, grande, grande felicità. Grazie per avermi permesso di condividere la mia esperienza, la mia piccola esperienza con voi. Se volete condividere la vostra esperienza in un luogo sacro, quello che avete imparato, sarei molto felice di sentire quello che voi avete da dire. Un'altra piccola realizzazione che ho avuto nell'andare in questo pellegrinaggio in India è stato il senso del servizio, il fare qualcosa per gli altri. Noi riceviamo quando odiamo. A volte andiamo come io, 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 tutto il centro, io, tutto quanto ruota attorno a me. Ma quando andiamo invece con un sentimento di servizio, lì la magia comincia ad apparire da tutte le parti. Non solo in quel momento, ma continua ad avverarsi. Una realtà completamente nuova e diversa. Grazie ancora per l'ascolto. Namaste.